Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e benvenuti a questa seconda parte del video tutorial su Spreaker. Vedremo di completare il discorso sulle caratteristiche e funzionalità di Spreaker e di vedere come si trasmette in diretta come in una vera radio. Andiamo su Spreaker, io mi sono già logato, questa è la home page. Illustro brevemente il menu opposto in alto a destra, qui sono nella home. Esplora è molto utile perché mi permette di cercare degli utenti, ho delle trasmissioni, degli episodi, vado su Esplora, vedete, ho varie categorie tra cui posso navigare, ho delle liste consigliate, ci sono molte trasmissioni in italiano, posso anche cercare qui, per esempio cerco scuola o istruzione e come vedete ho vari episodi, clicchiamo sul primo e l'altro a sinistra, I care, una trasmissione che parla di istruzione ed educazione, diciamo che mi piace e allora posso anche iscrivermi al canale di Radio SP30, basterà che clicchi su questo pulsante follow e diventerò un follower. Per verificare che sia tutto avvenuto correttamente vado sul mio profilo, following, cioè i canali che sto seguendo, le radio che sto seguendo, vedete Radio SP30, se non mi soddisfa più ritorno su Radio SP30 e riclicco su follow, in questo modo non sarò più un follower di Radio SP30. Bene, vista questa funzione, qui abbiamo i piani e i prezzi, possiamo confrontare, se vogliamo sfruttare meglio questa applicazione, posso con solo i 49 euro all'anno, vedete, realizzare trasmissioni giornaliere della durata di 45 minuti anziché 15 e avere uno spazio non di 5 ma di 500 ore e avere anche statistiche migliori. Bene, vediamo adesso di illustrare come si può trasmettere in diretta. Devo recarmi nella pagina Crea, sempre da questo menu, e andare su registra o i basic console, questa è la possibilità di accedere, mi dà questo pulsante la possibilità di accedere a una console. Prima di tutto darò un titolo alla puntata, scrivo prova 1, posso condividere nei vari social, posso inserire come al solito i tag, adesso mi inserisco 2 a titolo di esempio, ho terminato, qui mi si avvisa dei limiti, le ore che ho a disposizione, posso trasmettere solo un massimo di 15 minuti, posso anche fare una domanda se ho bisogno di assistenza. Bene, andiamo avanti, posso anche intervenire in un secondo momento, verrà lanciata a questo punto la console di registrazione. mi compare, ingrandisco, vedete, questa finestra in cui vi si chiede di consentire all'utilizzo del microfono, naturalmente io clicco su consenti, ecco la mia console di registrazione, non facciamoci impressionare, io sono piuttosto imbranato in queste cose, eppure ci sono riuscito, vediamo un po', abbiamo due console secondarie e il microfono, cominciamo dal microfono, per, ecco, cliccando su questo pulsante mute, io posso parlare senza che la mia voce venga registrata o trasmessa, ho praticamente azzerato il microfono, reattiviamolo, qui posso intervenire sull'audio del microfono, posso anche decidere la qualità della trasmissione della mia voce, alta qualità, qualità media, bassa qualità, più alta la qualità, più pesante e ampio sarà il file che produrrò, e quindi questo occuperà più spazio, ridurrà le mie possibilità, se è un account free. Bene, vediamo cosa servono adesso queste due altre console, servono a preparare una playlist che noi man mano trasmetteremo. Vediamo come fare, usiamo questa scheda playlist, clicchiamo su add, e si aprirà questa finestra divisa in quattro schede, esplora, cerca, ultimi, ultime canzoni, o comunque ultimi file audio, e carica. Vediamoli uno per uno, per esempio song, qui posso caricare song, oppure jingle, tracce sonore, e via dicendo. Cerchiamo qualche canzone, adesso, ecco, abbiamo trovato delle canzoni, non ho idea di che cosa sia, ma a questo punto potrei, per esempio, ascoltare in anteprima, se mi soddisfa, basta che clicchi su add, e la aggiungerò alla mia playlist. Andiamo adesso a vedere upload, che è il più interessante. Io dispongo di una media library, non riesco a dispondere di uno spazio per archiviare file che carico dal mio computer. Proviamo a caricare un file. Open music library. Devo aprire la mia libreria musicale. Aspetto un istante. Ecco, come vedete, è quasi vuota, c'è solo questo file che ho caricato prima per prova. Se voglio caricare nuovi file, basta che clicchi su carica. Clicchiamo su carica, musica, jingle, base o effetto. Io caricherò della musica, vado su musica, qui abbiamo fratelli d'Italia, e carichiamo a fratelli d'Italia. L'inno di Mameli. Qui i campi sono già tutti completati, o almeno il titolo è completato, il genere no. Mi sembra che abbia già finito. Ecco qua, finito di elaborare il file, ed è pronto il mio file, pronto per essere utilizzato. Torniamo su musica, e lo troviamo qui. Benissimo, possiamo modificare questi parametri, il vino di Mameli, il vino dell'artista, l'album, lasciamo tutto così, e torniamo nella nostra console. Adesso andrò su ultimi, e troverò fratelli d'Italia. Ascolterò l'anteprima, se mi interessa ascoltarla, è lui, quindi clicco su Add, aggiungo su questa icona con il segno più. Bene, diciamo che sono soddisfatto, a questo punto userò la mia voce, e questi due file, per la mia trasmissione. Chiudo, e immaginiamo di avere 20 file, per esempio 20 lavori dei miei studenti, e naturalmente le cose sarebbero molto più complicate, e quindi devo predisporre la scaletta del mio programma, utilizzando Deck 1 e Deck 2. Vediamo come, clicco sul file e lo trascino, clicco sull'inno d'Italia, e trascino anche l'inno nel Deck 2. Ecco, adesso sono pronto a trasmettere, il microfono è attivo, è attivo anche il Deck 1 e il Deck 2. Vediamo come funziona, anche qui posso regolare, vedete, il volume, e proviamo ad ascoltare. Se agisco su questo tasto, guardate cosa succede, non si sente niente. Questo mette in pausa, e questo spegne la canzone, Bene, cominciamo la nostra trasmissione, per trasmettere devo cliccare sul simbolo, sull'icona di record, di registrazione, poi faremo partire questa canzone, All the Waters, e poi Fratelli d'Italia. Clicco, si sta connettendo, e mi dà anche il tempo, benvenuti al mio programma, adesso vi farò ascoltare una canzone. Ecco, supponiamo adesso che io abbia finito, faccio sfumare, e mi metto a parlare. Adesso ascolterete il nostro amato inno. Diciamo che abbiamo concluso la nostra trasmissione, salutiamo il nostro pubblico, e chiudiamo. Come clicco sullo stop, viene salvata la mia trasmissione, il tuo episodio è stato salvato con successo, mi chiede di condividerlo su Facebook, naturalmente io non lo farò assolutamente, posso modificare, vedete, lascio così per il momento, e salvo. Bene, andiamo a vedere cosa è successo, vado sul mio profilo, e troverò in effetti la mia trasmissione, vediamo su episodi, anche qui vedete la mia trasmissione. Ascoltiamo il risultato. Mi dà anche il tempo, benvenuti al mio programma, adesso vi farò ascoltare una canzone. Come vedete, non è poi così complicato neanche trasmettere in diretta, adesso cancellerò tutto, ricordo che devo andare su episodi, e in questo modo posso cancellare, elimina, poi devo eliminare, sì, e direi che è tutto, almeno queste sono le basi, poi giocandoci, lavorandoci un po', o si può migliorare, si possono costruire programmi, o archivi, o insomma una radio didattica, abbastanza interessante. Vi ringrazio per la pazienza, vi ringrazio anche la mia finestra, e arrivederci, e buona giornata a tutti.